Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza bella ed elegante. Oggi vi presentiamo lo Schiperche! Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like! In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Lo Schiperche, classificato come cane da pastore bovari, è una razza dalle antiche origini belge. Da sempre lo Schiperche è stato impiegato come cane da guardia, ma veniva anche utilizzato per la caccia ai ratti che infestavano la città o le navi. Piccola curiosità, nel suo paese d'origine è chiamato addirittura piccolo demonio nero! Per quanto riguarda la morfologia è una taglia media piccola, con un corpo proporzionato, asciutto ma allo stesso tempo muscoloso. L'altezza prevista dallo standard della razza varia tra i 28 e i 33 centimetri al garrese, sia per i maschi che per le femmine. Mentre il peso oscilla un bel po' parte tra i 3 kg fino ad arrivare ai 9 kg. Il suo pelo invece è corto, folto e ruvido. Le colorazioni del mantello possono essere nero e nero-blu. Necessita di essere spazzolato regolarmente, ma non tende a perdere troppo pelo. Si tratta di una razza particolarmente giocherellona e vivace. Sembra non stare mai ferma, ama intrattenersi con i suoi simili e non, e allo stesso tempo è molto intelligente e attento alle richieste del padrone. È una razza affettuosa ma senza essere troppo invadente. Lo sciperche è un ottimo cane da appartamento, la sua taglia lo rende perfetto per la vita di casa, come per ogni cane però sono importantissime le passeggiate. Essendo un cane molto attivo e sportivo ha bisogno di scaricare tutta la sua instancabile energia. Comunque un giardino non sarebbe nemmeno male. Si tratta di una razza consigliata, tutte le qualità per essere una perfetta prima scelta. È piccolo, intelligente, obbediente, giocherellone e docile. Sarà semplicissimo educarlo, anche perché ama con piacere il suo padrone. Va d'accordo con bambini, anzi li ama. Lo stesso è con i cani e i gatti. L'unico suo difetto è che non va invece molto d'accordo con gli estranei. Tenderà ad abbaiare anche molto per allontanarli. L'aspettativa di vita media dello sciperche è di circa 13-15 anni ed è una razza nonostante il suo aspetto da cane delicato, robusta, che gode di ottima salute. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza come quella dello sciperche. Prima di scegliere il tuo amico quattro zampe vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremmo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!